L'Ufficio Mobilità, coordinato dal dottor Alberto Parravicini, è a supporto di tutti gli studenti ULM che desiderano frequentare una parte del percorso di studi all'estero e acquisire i relativi crediti. Allo stesso tempo l'Ufficio Mobilità è il punto di riferimento per tutti gli studenti internazionali incoming che vengono in scambio presso il nostro Ateneo. L'Ufficio Mobilità si occupa di vari programmi di mobilità, dal più conosciuto a livello europeo il programma Erasmus, ad altri programmi che permettono di svolgere delle attività all'estero in altri continenti come ad esempio in Australia o in America Latina. Attraverso la partecipazione a questi programmi lo studente potrà svolgere determinati periodi, esami, attività all'estero e averle poi riconosciute una volta al rientro in ULM. Altri particolari tipi di programmi di mobilità sono le Summer Session, quindi dei programmi sviluppati nel corso dell'estate, oppure i tradizionali exchange programs. Questi permettono allo studente di trascorrere un semestre o addirittura un intero anno accademico all'estero. Per poter partecipare ai programmi di mobilità lo studente partecipa a dei bandi di selezione nei quali vengono indicati i vari criteri di partecipazione come la conoscenza necessaria della lingua, dello stato ospitante e quindi dell'università ospitante e successivamente una graduatoria di merito verrà creata prendendo in considerazione sia le votazioni acquisite dagli studenti sia i crediti già ottenuti. Inoltre per la maggior parte dei programmi di mobilità sono presenti dei fondi a sostegno dello studente per i quali ci si può quindi candidare. Se quindi il vostro desiderio è quello di trascorrere un periodo all'estero o semplicemente di acquisire una conoscenza maggiore, avere qualche dettaglio, qualche curiosità sullo svolgimento dei programmi, potete scrivere direttamente a studiabroad.chiocciolayulm.it. Per questo saremo lieti di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità e magari di fornirvi anche qualche consiglio utile durante la vostra esperienza internazionale.